E la scelta del Presidente della Giunta regionale Donato Toma di puntare su Filomena Calenda sul nuovo assessorato non convince però l'opinione pubblica e molte donne del centrosinistra, meriti e coerenza dovrebbero essere i criteri per far parte delle istituzioni, ma andiamo a vedere questo contributo. Affermare l'uguaglianza delle donne è un dovere nella politica italiana, ma quello che è successo nel chiuso dell'esecutivo della Regione Molise per l'esponente del PD, Micaela Fanelli, ha toccato il punto più basso di questa legislatura. L'ingresso in Giunta di Menacalenda è funzionale solo alla sopravvivenza del centrodestra, proprio l'assessorato al lavoro e al sociale, dove più si sarebbero dovuti vedere impegni in pandemia, ha avuto come risultato la vicendarsi di quattro assessori, da Luigi Mazzuto a Maurizio Tiberio, fino al termolese Michele Marone, sostituito nelle ultime ore dalla Calenda. Il Molise è la regione che meno è stata capace di proteggere la salute delle persone, conclude Micaela Fanelli, è incapace di fronte alla crisi economica che sta devastando, insieme al coronavirus e il tessuto sociale produttivo locale. Rincara la dose da Isernia Maria Teresa d'Achille, sempre nel PD. L'ultimo caso è solo l'ACME di quello che è il modus operandi del centrodestra molisano, mai accaduto prima. Basti pensare a cosa succede all'interno della coalizione in Regione, dove troppo spesso i personalismi prevalgono rispetto all'appartenenza al partito di riferimento. L'emergenza sanitaria ha portato alla luce l'inadeguatezza della classe politica, divenuta autorreferenziale, perdendo di vista le reali esigenze del territorio. Il risultato è che ora ci troviamo di fronte al ruolo insignificante del Consiglio, che non è stato in grado, per fare un esempio, di difendere dal depotenziamento l'ospedale veneziale. Merito, competenza e coerenza dovrebbero essere i criteri alla base dell'individuazione dei rappresentanti delle istituzioni, ma oggi non è più così. Conclude Maria Teresa d'Achille.